Mi chiamo Rosmane Jeanne. Vivo nel quartiere numero uno di Brasilia, in Adaiti. Ho otto fratelli e due sorelle. Ho sentito parlare del colera alla radio e anche da chi ci ha dato le compresse per disinfettare l'acqua. Ci hanno detto che dovevamo usare l'acqua pulita per lavarci e bere, altrimenti ci sarebbe venuto il colera. Quando mio fratello si è ammalato di colera, l'abbiamo portato al centro sanitario di Bene. A quel tempo non avevamo il cloro o le pasticche per disinfettare l'acqua. Lui ha mangiato con le mani lavate con acqua sporca. Aveva la diarrea e vomitava di continuo. Pensavo che sarebbe morto, ma l'infermiera l'ha curato con tanta pazienza. Anche a me piacerebbe diventare un'infermiera appena finisco la scuola. Da allora ho protetto i miei fratellini dalla malattia. Raccogliamo l'acqua dalla pompa. Laviamo accuratamente le taniche dentro e fuori, anche i tappi. E prima di fare qualsiasi cosa ci laviamo le mani. Grazie. 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 Grazie.